Hello notturni, benvenuti su questo nuovo episodio di New Noturnal Stiamo giocando su un gioco Splasher Un gioco che probabilmente nessuno si inculerà mai Perché tutti impegnati a giocare a Minecraft, a Clash Royale Ma questo è il mio bellissimo benvenuto Cominciamo subito con il nuovo episodio Allora, questo gioco, io ho fatto le prime puntate Ed era carino, mi ricordava molto il gioco di un pezzo di carne Che doveva salvare la sua carnuccia Come si chiama? Meat Boy, qualcosa del genere, all'inizio mi ricordavo il nome E' carino in sé per sé Mi ricordava, è tipo uno speedrun E io moco il tutto come cazzo Ok, niente, niente, easy Bisogna salvare i cosi I tasti sono spazio per saltare Ciao Sono spazio per saltare E bisogna recuperare soprattutto la barra dell'esperienza Allora, la prima è facile Poi ci stanno anche le run Muori, bravo Quindi salviamo questo Ottimo Mi sto cagando in mano Allora, su questo gioco all'inizio è così Easy busy Anche su Meat Boy era così Però poi ricordavamo Che in effetti ci si Come si chiama? Si sbroccava proprio frequentemente Tanto guarda com'è, è fluido E' qualcosa di bello, no? Ah, qui ormai ho imparato Che non mi devo muovere Se vedete che so Troppo fluido E' perché ci ho giocato Un paio di volte Il primo livello E poi basta No E cazzo C'è nel senso Il primo replay Ve lo faccio così Solo perché dovevo salvare E farvi vedere Ma poi tutto il resto Taglierò Rimarranno soltanto Gli smadonnamenti Cioè Che penso saranno tanti Quindi non vi spaventate E non rimanete senza Pottino di Mallorca Voi in tutto e per tutto Mi dovete far sapere Cosa ne pensate di questo giochino E' la prima cosa che dovete Dovete dirmi Quindi Non cominciate a fare i cazzi Intanto è appena entrata Anche mia madre Mamma da Quindi se entrerà qualcuno Nella stanza Ci sarà un motivo Allora con calma Perfetto Salviamo anche questo Ok Salvato Devo arrivare a 700 Di esperienza Io attualmente ancora Non l'ho salvato Per l'ultimo splash Quindi andiamo a vedere un attimo Bel buco in dettore Ah e tanto è easy Che cavolo Basta fare spari questo Stessa cosa qui Dai vieni 10 10 Ottimo Dai eh Ok dovrei essere 200 Ma come cazzo faccio Probabilmente devo arrivare a 700 È una cosa impossibile Cioè impossibile no Ma non capisco da dove Da dove Mi vengono sti cosi Tanto tizio buffo Se ne va Io ho rimpicciolito anche la webcam Quindi Mi vedo bene Ah ecco perché lì dietro devo tornare E prendere la bocce Cazzetta sacra Questa è la nostra pistola Quindi ero Diate felici Ma c'è anche questo Ok E si prende così Ah dicevo I tasti sono I solidi A E alla D La J Per sparare per ora Alte per Alte è per RB Ma si vedrà dopo Perché È consigliato È consigliato Utilizzare il joystick Con questo me ci muovo Ok Preso tutto Pensiamo un attimo C'è qualcosa Eccola dove che non avevo preso Niente Non ci riesco Quindi abbiamo perso un po' di esperienza Andiamo su Andiamo tutto Tutto detto Vabbè sti cazzi Continuiamo Allora no Sotto ci sta Un Un attimo Che c'è Madre che mi sta distraendo Allora un attimo Sento Eh Allora conta che non ti sto sentendo Scusate un attimo il disagio Che ne so Puoi anche entrare C'è il microfono attivo Se vuoi Ok Tutto ok Tanto non so perché sto prendendo No Scendi 50 minuti E pensa che conosco il Il gioco Intanto questo Una volta che usciamo Non entriamo più Ah Non so dove vi ha lì l'altri Vedi ho saltato pure parecchia Poi si riempie qua E' carino Sto su youtube E niente questo qui morirà di fame Scusate per l'interruzione Scusate per l'interruzione ma era un attimo mia madre Allora facciamo un'altra partita Vediamo un attimo com'è Un po' qua mi diverto Dall'altra parte c'è il new No questo è il secondo Si Facciamo Vi faccio vedere anche il secondo Magari senza distrazione Quindi giocavo direttamente Putato Eh colletto Allora dovrebbe essere leggermente più impegnativo Talmente impegnativo che ho cominciato acciaccando le persone Si Ah qui mi occuperà un po' più di tempo Credo Vabbè per ora c'è L'esperienza non mi interessa Intesi Perché La prenderò offline Ah questa pure è facile Basta aspettarli qui prima E aspettarli cazzo Mi son cullato da solo Vai Perfetto Ciao Ciao Tutti felici e contenti Oh contenti Ma contate che questo sarà il primo episodio Quindi per ora non ci saranno tante morti E quindi sicuramente non ci sarà un taglio Quindi mi dispiace Cazzo Perché Non morirò così frequentemente come si va a pensare Mi dispiace Mi dispiace un sacco Allora voi mi dovete dire Come bovino Bovino adulto Che palle Che poi si trasformano in quel mostro E non mi piace Ciao belli Dai Che coglioni Come spregare Tempo E sali su Ma perché posso andare qui? Ah per salvare lui Perfetto Saltamo E andiamo No 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 Datele Scendi Bovino Stai Che rognosità Cazzo Mi son fottuto da solo Tanto è inutile A questo Dai Non ce la faccio Ok si qua si muore qualche volta No No che bovino Cielo Certo Ok si Giù 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 Ah Mi dimentico quello che devo fare Ok Tutto easy Io mi immagino le splinter run qua eh Proprio Ci sto capendo un cazzo Sono poco coordinato No I miei urli drammatici poi E che cazzo scendi Maledetto Sali su Perfetto Ah qui è un po' figlio della mignotta Un po' dico un po' figlio della mignotta Perché c'è sta nei lame là sopra Morto Vaffanculo Invece sono pure impegnato Che coglioni Ancora non so come recuperarlo quel tizio poi E dai eh Niente Non ci riesco a spararle Oddio 34 minuti Solo per pialli Mori uno Non c'è un modo più semplice Perfetto Ma che bello Cioè se io ho difficoltà adesso Mi metto qua Sparo Oh cielo Momento epico Oddio carino Se sto così E sfide Le vedo dure No Bisogna andarlo a salvare Geronimo Buono Che c'è da sta parte Scusa scusate eh Ok Sono un po' qui Vado qua sopra Ah ok C'era questo Però Non sto facendo esperienza Quindi Mi sa che non Non ci serve Se voi invece Volete anche il fatto che Il fatto che Dei prendere le cose Dieci minuti Cazzo Stiamo già tanto Dai facciamo questi ultimi episodi E poi Dai su Sbloccamelo Chi manca Cicciobuffo Benidetto Bravo Che bello Rivaldo Animao Ragazzi Ragazzi Buono No Che figo Ok Cerchiamo di non rimanere intrappolati Dobbiamo ancora sconfiggere La canzoncina Tanto non sta ma 700 Uno dove ammette L'ho sbloccato Mazzate Mi mancavano solo 100 punti Incorp All Ok Poi c'è il terzo Che ancora non ho fatto Credo Qui non ci posso morire Come ci va dal terzo Vediamo un attimo Ah scendendo Ovvio Ovvio Sei nord Un po' più su Un po' più su Ok Ti ci fanno impegnare Questo è il terzo Che non ho mai fatto Ragazzi Allora Mi dovete dire Cosa ne pensate Se vi è piaciuto il video Lasciate un commento Iscrivetevi al canale Ditemi quello che ne pensate Davvero Condividete Intanto se divertimo Sono a questa E fatemi sapere Soprattutto Se volete altri video Che c'è Che c'è sta sbrocca Va bene Noi ci vediamo Per il prossimo episodio Bye Spero vi siete divertiti Un pochino